Buonasera in questo equinozio di primavera con giornate veramente interessanti. Mi fa piacere essere un po' con voi stasera perché è un giorno speciale, in questa entrata della primavera che apparentemente ci riporta un pochettino alla vita, un po' più all'apertura, alla manifestazione, al sociale. Buonasera, eccovi. Buonasera, eccovi. Buonasera in questi giorni piuttosto potenti. Nel senso che principalmente l'energia sessuale ha a che fare con la vita stessa, ovvero l'energia sessuale è energia vitale. Quindi mi è sembrato anche curioso che mi venisse questa ispirazione di partire oggi con questo argomento, quindi nel giorno in cui riprende, primo giorno in cui riprende la vita, in cui la primavera, i germogli in realtà è già caldo da un po', per cui non è che coincide proprio con l'equinozio adesso, la ripresa della primavera, ma noi lo prendiamo come giorno ufficiale di inizio di questo ciclo. Ciao, buonasera. Sono dei picchi di energia, no? Non è a caso che per esempio a Natale cada proprio pochi giorni dopo il sostizio invernale, ovvero sono momenti di grossa energia. I momenti di grossa energia, come io sempre dico a chi viene alle mie lezioni, a chi viene ai miei seminari, l'energia non è né buona né cattiva, di conseguenza sta a noi come la usiamo e questo vale anche per l'energia sessuale. L'energia sessuale non è né buona né cattiva, è un'energia vitale e tutto ciò che noi ci mettiamo sopra, tutte le credenze, i tabù, i timori, per tante ragioni, alcune delle quali le esploreremo stasera insieme, questa energia si distorce e questa energia quando si distorce chiaramente crea dei cortocircuiti dentro di noi. L'energia sessuale, essendo l'energia vitale, l'energia del Big Bang, è chiaramente l'energia più potente che noi abbiamo nel nostro corpo fisico. È un'energia che scorre nelle nostre vene, è un'energia che ha a che fare con il nostro sangue, quindi è un'energia passionale, sanguinea, rossa. Rosso sangue, rosso mestruazione, rosso passione, rosso cuore, circuito cardiovascolare, battito inarrestabile dal primo momento in cui il corpicino ancora non è completamente creato, pensate, la prima cosa che si crea e incomincia a battere ancora prima che siamo completamente creati, è l'ultima cosa che finirà di battere. Voi potete capire quanto è potente questa connessione con il rosso, la vita, il sangue e aggiungiamo un'altra cosa, la madre. Sì, dico la madre perché nel momento in cui noi prendiamo la vita, noi la prendiamo da chi? Da un utero che ci ha accolto, accudito, abbracciato per nove mesi, un utero con il quale abbiamo vibrato con la stessa frequenza e di conseguenza siamo scesi e ci siamo accomodati in questo spazio dove sono successe delle cose, no? Sono accadute delle cose che ci hanno fatto confondere, confondere, fondere con chi? Questo utero e la presenza che c'è intorno a questo utero, quindi nostra madre. Quindi noi prendiamo la vita come prendiamo la madre, ovvero come passa attraverso nostra madre, ovvero con tutte le credenze, con tutte le paure, con tutte le passioni o i tabù di queste passioni, con tutta la sua modalità di vita, no? E quindi questa confusione, cioè mi fondo con, fa sì che il bambino dentro la pancia non distingue chi sono io e chi è lei. E quindi voi potete capire che il primo grande imprinting di come saremo e come vivremo la nostra energia sessuale, quindi la nostra energia vitale, deriva da un momento della nostra vita che è completamente inconscio, ovvero sotto il livello di coscienza, non conscio, poi chiamatelo come volete. Quindi questo cosa significa? Che noi siamo imprintati in una modalità che non conosciamo qui, ma conosciamo qui, nel corpo. E questa è un po' la prima grande fregatura, se così possiamo dire, nel senso che se io non so qual è stato il mio imprinting, se io non so cos'è accaduto in quei nove mesi e poi nei primi anni di vita in cui io ancora sono confuso con mia madre, e quindi mia madre mi allatta, mia madre mi dice o non mi dice, mia madre è calda o mia madre è fredda, mia madre è preoccupata, mia madre ha altre cose a cui pensare, mia madre non ha latte, quindi capite che c'è una vasta gamma di accadimenti che fanno sì che questo imprinting diventi in un modo piuttosto che in un altro. e quindi ognuno di noi non può controllare quel momento, e neanche nostra madre in realtà può in un qualche modo controllare quel momento, perché sta vivendo, nella maggioranza dei casi di quelli che siamo nati fino ad oggi, in un mondo, in un modo, in una modalità inconsapevole, ok? cioè non è consapevole di quello che le accade ed è trasportata dalla vita stessa, ok? e dalle modalità che ha imparato a sua volta dalla sua di mamma, infatti si dice che il bambino in un qualche modo cresce nel grembo della nonna anche, no? quindi ha a che fare questa linea materna con quello che io prendo poi come imprinting, che mi porto dietro finché non lo metto in discussione. quindi che cos'è che accade? veniamo da generazioni e generazioni in cui l'energia sessuale era un tabù. io guardo la mia nonna per esempio e gonnona ancora sotto il ginocchio, camicia o comunque polo anche d'estate, perché non si mostra il petto, non si mostra la gamba, ok? quindi non è né bene né male, semplicemente osservo che cosa sto acquisendo da qua, quali credenze ci sono qua. poi noi sappiamo molto bene che nella storia degli ultimi, va bene mi fermerei, agli ultimi duemila anni, facciamo così per non andare ancora più indietro, tanto la storia si ripete, e nella nostra vita o ripetiamo o trasformiamo, non c'è un'altra modalità. quindi se non abbiamo trasformato, cosa che dubito che ci sia stato negli ultimi duemila anni, perché come dico sempre, anche questo in accademia, noi siamo la prima generazione che sta mettendo mano a ciò che rimane sotto la soglia della coscienza. e quindi a tutti quei programmi, a tutte quelle storie che non sono state dette, che non sono state elaborate, che sono state sofferte, a tutti quei segreti che non sono mai stati rivelati, a volte neanche a noi stessi, perché cosa facciamo? Cioè io mi taccio di ciò che è importante per me, perché non si può dire, perché non mi posso manifestare, perché scomoderei qualcosa o qualcuno, perché svelerei qualcosa che diminuisce, denigra qualcun altro, che è importante per me. Quanti segreti noi ci portiamo dietro? Miliardi. E questi segreti e tutte queste cose accadute, non hanno permesso il fluire della vita e per cui dove si sono rimesse nell'energia sessuale. Quindi come possiamo noi oggi vivere profondamente l'energia sessuale, che è la cosa più intima che noi possiamo portare dentro e che si va a risvegliare nel momento in cui io incontro l'altro. Io dico sempre, dovremmo incominciare sempre e comunque da noi stessi, no? Ad avere un rapporto sessuale con il nostro corpo, ad avere un rapporto sessuale con la nostra intimità, ad avere un rapporto sessuale con le nostre parti genitali, quindi i maschietti con i maschietti, con se stessi quindi, e le donne con la loro parte genitale, perché il primo tocco che noi possiamo conoscere è riconoscere, ma soprattutto in questa modalità io posso riconoscere cosa mi piace e cosa non mi piace, quali sono i punti più vibranti dentro di me e quali sono quelli che invece non mi fanno sentire tanto, ma ancora posso respirare dentro la mia genitalità e dentro questa genitalità mentre respiro che cosa si risveglia? Perché tutte le memorie che noi abbiamo ereditato sono presenti nei nostri tessuti e nei nostri organi, ecco perché poi somatizziamo, ecco perché poi il sintomo ci racconta una storia che noi portiamo dentro, una storia percepita o ereditata, dipende, comunque sia una storia ereditata ci fa cambiare il nostro percepito e quindi voi potete capire che se io chiudo e non sento più starò chiudendo anche la possibilità di rientrare in contatto con certe storie che sono state dolorose. Io non metto in dubbio che duemila anni fa, mille anni fa, noi abbiamo vissuto, noi, perché noi ereditiamo queste storie, noi donne ma anche gli uomini, la sessualità in un modo completamente distorto, in un modo probabilmente abusante e violento. Chi l'ha fatto per storie personali, chi l'ha fatto per altre ragioni, perché non sapeva, chi l'ha fatto perché culturalmente tutto ciò che noi mettiamo sotto il tappeto, ma questo vale anche nell'individuale, tutto ciò che noi mettiamo sotto il tappeto troverà delle modalità per uscire e per farsi vedere in modo distorto. Ecco perché è così importante avere un contatto con la nostra profondità, perché se io ho un contatto con la mia profondità e se io acquisisco delle risorse e delle capacità di ascolto profondo, invece di rinnegare a me stessa o a me stesso quello che sto sentendo perché non si può e quindi passa sotto il livello di coscienza e quindi di conseguenza deve trovare delle modalità principalmente proiettive ma anche di altro tipo per farsi vedere, perché grazie al cielo noi tendiamo a evolvere in un modo più o meno ordinato. Quindi che cos'è accaduto? È accaduto che non si può fare questo, puoi fare sesso solamente quando ti sposi, se desideri un altro uomo e qui non voglio entrare nella parte religiosa ma insomma penso che potete intendere quello che voglio dire, non desiderare la donna d'altri, non desiderare l'uomo d'altri e tutta questa roba che ci è stata infilata nella nostra testa ma anche nelle nostre cellule, memorie cellulari, noi le portiamo dentro e quindi tutto ciò che viene fuori non può essere altro che legato a una sorta di tabù, a una sorta di distorsione. Come posso non desiderare un uomo che mi va a risvegliare il mio fuoco interiore e che non è una cosa che io decido razionalmente. Parlo di un uomo ma così vale per i maschi e con le femmine. Io posso amare profondamente mio marito, il mio compagno ma non vuol dire niente che passi un altro uomo e io possa sentire che mi si attiva il fuoco interiore. Sapete qual è la differenza? Non è tanto reprimere e dire no, io figurati non guardo da nessuna parte perché non è vero e soprattutto gli uomini che hanno una fisiologia molto diversa dalle donne per questa cosa è naturale è naturale, è biologica, è organica è la nostra natura non possiamo andare contro la nostra biologia perché altrimenti la nostra biologia si ribella perché è la nostra natura. Ora qui differente è cosa ci faccio con questo eventualmente cosa decido di farci se sono presente a me stessa io posso scegliere che cosa farci quindi non vuol dire che io salterò addosso a tutti gli uomini o se sono uomo a tutte le donne che mi fanno accendere il mio fuoco interiore ed è qua la grande rieducazione che noi secondo me dovremmo fare che nei miei corsi al momento al femminile sto portando come esperienza facciamo esperienza della nostra energia sessuale apriamo le gambe non per essere penetrate apriamo le gambe perché facciamo respirare apriamo la porta del mistero sì perché la vagina così come il pene hanno questa capacità di riconnetterci a una a un circuito elettrico che poi ha a che fare con la Kundalini quindi con le grandi energie della storia dei tempi dei tempi dei cui i maestri ci hanno tramandato il loro uso il loro uso consapevole ma qui io vi devo dire una cosa noi tutti abbiamo un cervello animale dentro di noi dentro le donne c'è una lupa e dentro gli uomini c'è un lupo io amo profondamente la nostra natura animale non la giudico perché non è né buona né cattiva è semplicemente quella che è e gli istinti animali sono istinti primordiali sono istinti che non ci toglieremo mai e di solito la prima cosa che noi facciamo è mettere quel lupo e quella lupa sotto chiave come facciamo? lo giudichiamo è sbagliato sentire questa roba qua non si può è pericolosa ci fa fare delle cose assurde ci rende folli ma l'essere umano è folle e la follia è la sua bellezza più grande quel lupo e quella lupa vogliono vivere profondamente e in modo autentico e veritiero la vita sono la nostra salvezza nel momento in cui ci rinchiudiamo in tutte queste strutture mentali di bravi ragazzi e brave ragazze il nostro lupo e la nostra lupa sono le lilith interiori di fatto sono le bestie sono quelle che più noi le cacciamo da una parte più noi le allontaniamo dal nostro cuore e quindi dall'inclusione nella nostra vita più diventano cattivi più diventano odiosi più diventano freddi e allora sì che fanno dei grandi casini e allora sì che useranno la loro forza contro di noi per sabotare ciò che di meraviglioso pensiamo di aver costruito e allora io dico sempre se avete un marito se avete una moglie incontratevi fate incontrare i vostri lupi le vostre bestie incontratevi in quello spazio bestiale qualche volta lasciate che quelle bestie possano ruggire possano aprirsi al loro desiderio in un modo sano e consapevole appunto che non vuol dire fare le cose fatte bene perché non lo sappiamo quella bestia che cosa ha voglia di fare in quel momento come ha voglia di prendere l'altro o di essere presa per esempio e quindi la sessualità si riaccende quando siamo in coppia di un fuoco sacro perché io rendo sacra quella parte di me ovvero la guardo e so che ha un senso più grande che al di là di farsi del male se io la includo mi permette di fare un contatto con l'altro che sarà bestiale istintivo ma sarà vero e sarà molto passionale e sarà stupendo e se io a un certo punto mentre sto provando la bestia con l'altro mi permetto di respirare e di sentire tutta quell'onda energetica passionale di fuoco che mi attraversa sapete che cosa accade? Accade che tutta quell'energia dalla pura vagina genitalità e dal basso ventre si alza fino ad arrivare al mio cuore e questi sono gli esercizi le pratiche che noi lo facciamo va bene con le donne in alchimia femminile ma lo possono fare gli uomini ci sarà sicuramente per chi vorrà modalità di fare qualche cerchio misto o comunque qualche seminario in cui ci siamo donne e uomini insieme sono pratiche tantriche di fatto il tantra in sé disciplina antichissima di fatto che ci viene tramandata dall'India non ha a che fare tanto con la sessualità intesa come la penetrazione ha a che fare con la respirazione il 99% del tantra è respirazione ma noi cosa abbiamo fatto? visto che abbiamo 8 miliardi di tabù e di modi di pensare ma soprattutto non tanto di tabù perché si dice che quello non va bene quanto perché io per prima o per primo reprimo delle parti di me e tutto ciò che io reprimo viene fuori come perversione e vi dico un'altra cosa la perversione è naturale e umana le abbiamo tutti le perversioni tutti quanti e allora tanto più tu ti permetti di entrare in contatto con quelle perversioni e magari anche di sentire se ti provoca dello schifo per esempio ci possono essere delle memorie di abusi personali individuali o nella nostra famiglia ma come faccio io a guarirle ovvero a includerle di nuove a trasformarle le devo guardare le devo sentire e devo liberare dentro di me quello che appartiene a qualcosa che è assolutamente naturale in ognuno di noi quindi ritorno alla Lilith Lilith cos'è? La rifiutata no? voi sapete che il 30 di aprile farò questo mini seminario ma io ve lo consiglio comunque perché è una bellissima apertura al mondo di Lilith per chi invece ha già fatto seminari con me di Lilith andiamo a scoprire una cosa un po' nuova che sono le tre Lilith che sono presenti nel nostro tema la triade dell'oscurità delle idee oscure e sono interessantissime tutto è triade tutto è tre tutto è terziario perché? perché padre madre figlio io te e il prodotto che nasce da noi due insieme maschile femminile interiori nel momento in cui si mettono in comunicazione il tantra ci insegna questo attraverso la respirazione che cosa accade? accade che si crea questo cerchio di energia cioè si attiva l'elettricità interiore del nostro corpo e si risveglia la kundalini fondamentalmente quindi in realtà noi dovremmo imparare a fare l'amore con noi stessi prima di tutto per poi unirci all'altro in un modo completamente diverso ma tornando al tantra alla respirazione le pratiche che si fanno sono delle pratiche che vanno a risvegliare prima di tutto la parte genitale e poi a portare su questa energia a portarla su e questa energia incomincia come un serpente a scivolare nel mio ventre fino ad arrivare al mio cuore è possibile che in questo scivolare di questo primo pezzo del mio corpo si fermi da qualche parte e risvegli delle memorie in quel momento si continua a respirare perché attraverso il respiro io vado a pulire le mie memorie noi abbiamo delle pratiche che sono di una semplicità pazzesca ci siamo complicati la vita con la new age e con l'olismo a un livello bestiale ci siamo dimenticati che cosa siamo siamo molto più semplici ma non perché nella semplicità noi perdiamo dei petti anzi nella semplicità noi ci riconnettiamo in modo verticale a qualche cosa di enorme immenso che è la nostra natura profonda e la sessualità ci permette di fare questo ecco perché il tantra ci ricorda quanto in un qualche modo attraverso questa energia sessuale attraverso il riconoscimento delle nostre perversioni dei nostri desideri di come vogliamo essere presi di come vogliamo essere presi in tutto il nostro corpo noi possiamo attraverso la respirazione pulire ciò che impedisce questa energia sessuale che non ha niente a che fare col fare sesso con l'altro ha a che fare con me me con me me con la vita io e la madre perché nel momento in cui io mi ricongiungo alla vita ho la possibilità di manifestare chi sono io di rompere queste catene di spezzare tutto quello che mi ha impedito di essere chi sono e questo cosa fa dentro di noi crea un passaggio un canale quindi pulisce il canale centrale che nel momento in cui trova degli intoppi proprio come i tubi i tubi in casa dell'acqua in un qualche modo e si incrostano a un certo punto non passa più quelle sono le nostre memorie che incrostano il tubo e ad un certo punto che cosa succede? questa energia sessuale si deve distorcere ok e in cosa si trasforma? in rabbia la rabbia per eccellenza è la manifestazione dell'energia vitale dell'energia sessuale più potente che noi abbiamo ecco perché la rabbia usata per bene ci permette di liberarci dalle catene del passato o da delle catene che ci stanno incatenando in questo momento e quindi ci portano verso la nostra libertà la rabbia è sacra nel momento in cui io la guardo in questo modo quindi voi potete capire che qua stiamo andando no verso un'accettazione grazie Beatrice che dice questo no di quello che noi portiamo dentro perché il grande punto del lavoro personale è andare in contatto con le nostre memorie che ci servono per fare delle esperienze le nostre memorie sono come i sintomi fisici ci servono per fare delle esperienze che ci cambiano e che non potremo mai più essere come prima se le attraversiamo ma se gli diciamo di no rimaniamo fissi statici rinchiusi ed è come proprio il famoso leone in gabbia può stare bene un leone in gabbia possiamo stare bene noi quando ci obblighiamo a rimanere in gabbia e in quella gabbia dorata che tanto conosciamo che riprendiamo volta dopo volta e che fa sì che la nostra percezione della realtà sia distorta quindi quando noi andiamo a respirare queste cose qua con delle delle pratiche talmente semplici che quasi ti fanno annoiare ma che nel momento in cui le fai ti risvegliano qualcosa di talmente potente dentro di te che non ci puoi credere che 4-5 respirazioni facciano tanto allora ti accorgi di quanto tutti quanti come umanità stiamo scappando da noi stessi riempendoci la testa di 2 miliardi di concetti meravigliosi che non ci portano da nessuna parte perché? perché continuiamo a tacere le cose importanti principalmente a noi stessi e allora io dico sempre alle persone che vengono da me vai allo specchio guardati almeno dillo a te stesso o a te stessa quello che stai sentendo quello che ti stai rinnegando di dire agli altri perché hai paura che ti giudichino che ti abbandonino che se ne vadano che ti rifiutino sì perché dentro a questa energia sessuale che attiva una attrazione come un magnete e al momento visto che non siamo buddici ancora quindi non siamo dei dachini e delle dachini ok cioè dei maestri di questa energia e Osho diceva sempre prima si parte dal primo gradino per poi arrivare all'ultimo il primo gradino è la bestia noi dobbiamo sperimentare quel gradino lì se vogliamo risvegliare gli altri gradini che ci portano su e questo che cosa significa che dobbiamo accettare che c'è una bestia dentro di noi che a volte vorrebbe anche mordere l'altro da quanta passionalità gli viene fuori da quanto istinto ma soprattutto che c'è una bestia dentro di noi che attiva un fuoco perché l'energia sessuale è puro fuoco è puro yang è pura espansione eh ecco perché dico che chi mi conosce sa che ha molto a che fare con me questo tipo di energia e questa espansione non è che pensa la mamma al babbo al marito al figlio ma si espande e basta e quindi ti può portare a fare delle cazzate sì certo quelle che chiamiamo cazzate ma poi in realtà sono quei colpi di testa che a volte per fortuna li abbiamo fatti nella vita perché abbiamo scoperto che al di là di quel limite c'era qualcosa che ci stava aspettando qualcosa di importantissimo e imprescindibile per noi ecco perché la bestia ecco perché l'illite non è una forza creatrice è una forza distruttiva e sapete che cosa distrugge? distrugge le barriere che abbiamo messo tra noi e noi ovvero tra noi e il nostro cuore perché l'energia sessuale ci spinge in alto in realtà è un'energia altamente verticale ecco perché il tantra dice che a un certo punto in realtà noi l'attiviamo con l'altro per fare esperienza di noi stessi quindi la grande paura che noi abbiamo è di vedere chi siamo veramente nell'altro nel momento in cui si attiva e quel fuoco lo condividiamo ecco perché noi rinneghiamo l'intimità ecco perché le relazioni oggi sono così complicate perché io mi rivedo nell'altro e l'altro mi può rimandare qualcosa di molto forte e non sto parlando solo nel momento in cui io faccio l'amore con qualcuno io trovo che la sessualità si risveglia in miliardi di modi diversi quindi se noi usciamo da questa idea che la sessualità sia fare sesso con l'altro incomincerò a notare che questa energia mi si manifesta cento miliardi di volte al giorno se io la permetto io posso fare l'amore anche mentre vi sto parlando e di fatto chi mi conosce penso che scorga a volte questa mia passionalità talmente forte che io ve lo dico a me mi si attiva tutta la genitalità e questa cosa sale nel mio ventre e si attivano tutte quelle scariche elettriche che poi respirando e ripeto queste sono pratiche che a prescindere si possono fare per allenarci in modo che nel momento in cui io riattivo questa forza la posso respirare portare su e dal cuore posso andare ancora più su e posso aprire completamente la mia mente e rompere tutte quelle credenze che nella mia mente ci sono o rompere tutte quelle credenze che nella mia gola non mi permettono di parlare ma in quel momento io perdo il controllo e voi sapete che l'orgasmo per eccellenza è la perdita totale di controllo ecco perché io posso avere un totale orgasmo solamente con qualcuno di cui mi fido perché in quel momento soprattutto la donna perde conoscenza ma anche l'uomo solo che l'uomo per un momento molto più piccolo molto più breve e quindi entrambi in quel momento lì chiamata appunto la piccola morte o la grande morte ci sono delle differenze ma non è il momento di parlare di questo nel tantra nel momento in cui noi viviamo l'orgasmo stiamo morendo ovvero cos'è che muore muore l'ego e c'è una grande lotta tra l'ego e il sesso l'ego è il grande nemico del sesso perché l'ego ha paura di lasciarsi andare l'ego ha paura di morire fa di tutto per non farci morire ecco perché fa di tutto per tenerci nel passato e quindi che cosa accade che in quel momento l'ego protegge qualche cosa e reprime in quel momento l'ego ha paura del rifiuto dell'altro in quel momento quando si accende questo fuoco io ho paura che l'altro mi dica di no io ho paura che l'altro se ne vada io ho paura di rimanere attaccata o attaccato all'altro che l'altro non voglia restare con me ed ecco l'intimità che non c'è più perché io ho paura dell'altro l'altro mi rimanda delle cose che io ho messo là per tutto questo tempo non le ho volute vedere l'altro mi rimanda il rischio della sofferenza l'altro mi rimanda un sacco di cose che mi possono ferire l'altro riattiva il mio fuoco ma questo fuoco che è un fuoco alchemico è un fuoco che brucia e quindi vuole bruciare quello che c'è dentro vuole infiammare il mio corpo fino a farmi arrivare a trasformare qualche cosa di me e l'ego ha paura di tutto questo non te lo permette e poi che cosa succede divento dipendente da questa energia certo che posso diventare dipendente ma la dipendenza dal sesso con l'altro è molto diverso dal viversi la sessualità in un modo sano non vuol dire stare tutto il giorno a fare sesso con qualcuno o con me stessa perché come vi dicevo nel momento in cui io rieduco questa energia nel mio corpo a che possa scorrere io posso fare l'amore mentre faccio la conferenza sto facendo l'amore con le cose che dico con le energie che sto risvegliando dentro di me io faccio l'amore quando scrivo i libri per esempio quando scrivo un post alla mattina quando mando un messaggio a una mia amica a cui voglio tanto bene quando faccio lezione quando ricevo lezioni posso fare l'amore mentre sto camminando per strada ma cosa significa fare l'amore se non sentire questa vibrazione che mi è partita tra l'altro dai miei genitali che sale su e vibra vibra alla vibrazione della terra quindi faccio l'amore con la terra faccio l'amore con lo spirito mentre medito fare l'amore è una fusione totale col momento presente che mi risveglia una passionalità un fuoco interiore posso fare l'amore mentre spazzo mentre lavo qualcosa non importa cos'è che ti attiva quel fuoco l'importante è che tu lo attivi e lo tieni attivo voi sapete che in India una delle pratiche più classiche diciamo così che si trovano nei templi è l'agni l'agni che cos'è il fuoco sacro che nei templi viene mantenuto tra l'altro c'è praticamente in tutte le culture in modi diversi perché c'è anche in realtà nello sciamanesimo c'è il guardiano del fuoco guardiano del fuego pietra caliente e questo si fa nei temaskal durante le pratiche delle capanne sudatorie ma c'è sempre qualcuno che si dedica a curare il fuoco a mantenere il fuoco questo che cosa significa? che ognuno di noi è custode di un fuoco interiore che è la nostra energia vitale o energia sessuale quindi se io sono custode del mio fuoco mi devo dedicare a custodire a curare quel fuoco e come si fa a curare un fuoco? in una casa quando abbiamo un camino ci si mette la legna si nutre quel fuoco ci si ricorda di quel fuoco quindi sì attraverso la masturbazione per esempio è una modalità ma noi non accendiamo quel fuoco solamente quando ci masturbiamo noi accendiamo quel fuoco quando facciamo qualunque cosa che ci crea piacere questa parola che ha un milione di tabù e sembra quasi che nella nostra società cazzo il piacere non si è permesso perché devi partorire con dolore perché devi lavorare con sudore a matta ma chi è sto mondo? no? ma che cavolo di realtà ci siamo comprati? ma quanto abbiamo creduto che tutte queste cose fossero vere perché le abbiamo viste i nostri genitori i nostri nonni zappavano la terra adesso poi non si zappa neanche più la terra come se zappare la terra fosse una cosa orribile in realtà secondo me attiva molto di più l'energia sessuale che stare in un ufficio tutto il giorno davanti allo schermo del computer ma questo è un altro discorso il piacere di mangiare una fragola quante volte ho detto un orgasmo culinario mangi una cosa che wow la senti in tutte le cellule si espande in tutto il corpo ma come facciamo noi a sentire tutta questa roba se tutto il mio corpo è bloccato dai miei traumi allora l'ho congelato dalle mie dissociazioni perché me ne vado via dalle mie distrazioni dalla mia mente che pensa 800 miliardi di cose totalmente inutili al giorno come faccio io a stare nel corpo quindi capite che l'energia sessuale è fortemente legata allo scongelamento del corpo al movimento del corpo chi fa danza rituale con me lo sa noi donne che possiamo riattivare con movimenti sinuosi questo corpo ma anche l'uomo che guardando questi movimenti sinuosi del corpo femminile che è meraviglioso sia con la ciccetta sia senza ciccetta il corpo femminile è fatto per creare piacere non solo a noi donne ma anche all'uomo perché l'uomo che guarda il corpo femminile che si piace che si ama che si rende sacro ok non prova piacere siamo oggetti di piacere noi donne sia nel bene che nel male non a caso le case chiuse e le prostitute la maggioranza sono femminili ci sono molti meno gigolò di fatto perché il piacere è femminile il piacere è ricettivo quindi risveglia il femminile dell'uomo e della donna no assolutamente Monica perché se io non scongelo il mio corpo come faccio a sentire il piacere a sentirmi quindi capite che mentre io mangio una fragola gustosissima le prime fragole dell'anno e questo sapore dolce amaro no dolce no amaro no ma dolce che può essere misto a limone magari per chi gli piace o allo zucchero entra dentro le mie cellule dentro il mio palato e si trasforma in piacere in tutto il mio corpo faccio l'amore con la fragola cioè mi fondo in quel momento completamente sono totale in quel momento perché sessualità è totalità e non te ne do un po' ah si buona noi facciamo tutto di fretta oggi no perché fuggiamo dal momento presente di continuo e poi ci ci rammarichiamo perché non stiamo vivendo la vita no non la viviamo in questo modo quindi capite quante barriere ci sono nella nostra sessualità nel vivere la nostra sessualità quante cose ci sono che portiamo dentro e ci mettiamo sopra per tappare perché ogni volta che noi risvegliamo questa energia sessuale questo è un movimento verso la vita e la vita spesso ci dice che cazzo ci fai in quella situazione lì ancora te la racconti così tanto ancora ti giudichi così tanto per fermarti ma quanto è comodo fermarsi quanto è comodo dirci che non siamo in grado che non è per noi che abbiamo un corpo brutto anche questi sono giudizi che ci fermano smettiamo di credere a quello che dicono gli altri di quello che ci vendono ogni giorno nei cartelloni pubblicitari di queste donne stecchite che sono più anoressiche che altro che se andiamo a vedere che vita fanno sono delle vite di merda ok perché il piacere di mangiare la brioche alla mattina o il piacere di farsi un bel piattone di che ne so spaghetto allo scoglio gigantesco invece di star lì a misurare le calorie cos'è che ci fa realmente ingrassare la non vita perché se noi vivessimo tutte queste cose con piacere con serenità io vi assicuro che il vostro corpo non produrrebbe otto quintali di grasso oppure non dovremmo stare a dieta otto miliardi di anni perché perché così mi mantengo in linea però intanto soffro guardate che la vita è una sola in questo corpo attuale si l'anima è eterna ma poi ci saranno altri poi che non saranno come adesso mai più questo momento in cui io vi sto parlando non verrà mai più non ritornerà mai più mai più per l'eternità e io scelgo stasera di essere qua a parlare di questo e voi direte ma che cazzo te ne frega a te di risvegliare l'energia sessuale della gente lo sapete cosa me ne frega che ci sarebbe molta meno frustrazione saremo molto meno arrabbiati saremo molto più liberi saremo molto più veri e le nostre relazioni sarebbero straordinarie perché ci sarebbe una grande verità anche all'interno della coppia dove non c'è un problema se io mi eccito guardando un altro uomo che passa o tu ti ecciti guardando un'altra donna che passa o d'estate ci si eccita perché sai com'è in spiaggia tutte queste tette e culi magari qualcuno sarebbe anche carino da guardare e non c'è niente di male ma siccome noi mettiamo tutto sotto terra appena io vedo un culo bello mi si attiva tutto e mi vengono le perversioni che non ho mai ascoltato e allora magari di fianco a mia moglie o di fianco a mio marito io sto pensando quanto è bello fare altro con quel culo che ho davanti allora starò dicendo delle cose che se invece di eccitarci e proiettare continuamente sull'altro il mio fuoco io mi gestissi quel fuoco in un modo diverso e anche con tanto rispetto verso l'altro perché il fatto che io mi sia eccitata non vuol dire che l'altro lo sia ecco perché poi ci si attiva lo schifo perché noi pretendiamo che anche l'altro senta quello che sento io e questa è violenza allora forse dovremmo incominciare a distinguere che cos'è il piacere sano dalla violenza perché vivendo in una società abusante siamo molto più capaci di invadere che di condividere ed eventualmente prima di invadere chiedere anche tu stai sentendo questo oppure sto sentendo questo che ne pensi no? quindi caro Lele non tiro sul mio braccio perché ti piace vederlo a te quindi dobbiamo stare molto attenti perché qui entriamo in un ambito molto delicato dove c'è l'intimità e allora se poi le persone si chiudono all'intimità c'è una ragione il mio corpo nudo o il tuo corpo nudo non è per tutti altrimenti andremo in giro nudi no? per strada è bello mantenersi e curarsi e rispettarsi e quando attiviamo questa energia sessuale quindi passiamo dalla bestia e com'è che rendiamo sacra una bestia riconoscendola e rispettandola e condividendola con amore cioè ciò che rende il sesso sacro e meraviglioso è l'amore perché altrimenti staremo unendoci solamente dai nostri genitali e quella è l'energia più bassa che noi possiamo fare ecco perché la rieducazione io chiamo rieducazione perché l'educazione sessuale non è andata molto bene nelle nostre scuole quando hanno iniziato a farle in realtà no? hanno passato un po' di così concetti un po' distorti che non hanno proprio aiutato a cambiare le cose allora a parte il fatto che ci insegnano che il maschietto c'ha il pene e la femminuccia c'ha la vagina e quando si fa l'amore c'è la penetrazione quindi lì si fanno i bambini ecco io non ho ricordo di tanto altro di educazione sessuale nelle nostre scuole no? ma qui si tratta di rieducarci a usarla questa energia e quindi io non vi sto dicendo che domani dovete andare fuori a fare le bestie per strada e invadere sessualmente ogni uomo o donna che vi piace no? siamo esseri umani ok? e accetto che ho questo sentimento questo istinto cosa ne faccio? cioè questa è la differenza cosa ne faccio? quindi la massima espressione della sessualità tra due persone che si uniscono è l'amore e nel momento in cui io ho questo ingrediente ecco perché prima vi stavo dicendo del respiro e del portare su perché nel momento in cui io porto su e io ho avuto tante donne e anche i mariti di queste donne che sono venute a ringraziarmi ovviamente non è stato merito mio ma dopo i seminari dove si lavora per tirar su questa energia sessuale al cuore l'atto sessuale tra due diventa una grazia diventa l'espansione più potente e la fusione d'amore più grande che ci sia perché includi tutto arrivo Federica adesso ti rispondo quindi che cosa accade che la donna che ha il suo cuore attivo e l'uomo che ha il suo pene attivo quindi a livello di polarità noi siamo invertiti e quindi la donna ecco perché nei ritiri al femminile lavoriamo tanto tanto sull'apertura del cuore intesa come l'inclusione di tutto io apro il cuore nel momento in cui includo la mia bestia la mia ciccetta la mia cellulite la mia bruttezza la mia gelosia la mia possessività il mio controllo tutte quelle cose che fanno parte no della bruttezza umana ma che abbiamo tutti fondamentalmente nel momento in cui io includo per includere devo aprire e quindi nel momento in cui io apro il respiro tutto quello che porto dentro tutte le mie paure tutte le mie memorie tutte le mie distorsioni perversioni tutti i miei no che mi sono detta apro qui e permetto all'altro quando mi unisco di attivare qui quindi si crea questo circuito nel mentre che si fa l'amore questa è la massima espressione della sessualità a due che noi possiamo fare quindi ecco che quella bestia non è più una bestia feroce che ha fame e che odia perché è mossa dalla paura e dall'odio del rifiuto ma diventa una bestia accolta che ritrova il suo posto che collabora con il cuore che viene inclusa in tutto questo e che fa sì che quel fuoco si espanda e si alzi fino al nostro cuore poi anche fino molto più su per le unioni orgasmiche più potenti abbiamo proprio l'uscita la grande morte che è proprio la riattivazione di tutto il canale quindi qui ci riconnettiamo allo spirito quindi ci riuniamo alla fonte divina quindi è una connessione dalla terra ed è potentissima ed è un qualche cosa di straordinario ma io vi dico questo con l'altro non è possibile nel momento in cui non c'è l'amore non c'è l'innamoramento l'innamoramento non è la passione dell'inizio proprio la relazione d'amore cosa a che fare la vergogna con questo argomento allora la vergogna così come il senso di colpa così come il giudizio sono tutte emozioni di repressione cioè è una strategia dell'ego per reprimerci ora la vergogna ha a che fare con una buona coscienza ovvero un modello che io ho imparato dalla mia famiglia e che quindi non mi permette di manifestare chi sono io quindi la vergogna è una strategia dell'ego straordinaria per riportarci indietro cioè per riportarci a ciò che è accettato da chi? dal clan qui entriamo nella genealogia ma entriamo anche nella psicologia perché io prendo il modello familiare quindi non mi permetto di fare esperienza di quello che è mio veramente perché la vergogna mi riporta indietro mi fa nascondere no? generalmente come vedi la vergogna accende il fuoco ok? quindi ha a che fare con questa energia vitale che però viene represso poi hai fatto un'altra domanda no? è sempre la stessa ok quindi fatemi delle domande abbiamo ancora una decina di minuti se ce le avete volentieri mi piacerebbe molto davvero per me questo è straordinario nel senso che nel momento in cui noi ricominciamo a fluire nel rispetto e nell'amore di questo tipo di energia noi facciamo dei salti di coscienza cioè ogni volta che ci permettiamo di entrare e di far fluire quell'energia e quindi di entrare in noi in questo senso di permettere che si risvegli senza giudizio ok? quindi è chiaro che da che io l'ho repressa e l'ho giudicata a che io arrivo a permetterla senza giudizio ci sono dei passaggi da fare no? dei passaggi di guarigione proprio di memorie di liberazione emozionale eccetera eccetera ma nel momento in cui io lo riesco a fare quindi elevo questa energia io andrò nel mondo in un modo completamente diverso ok? Osho ha scritto milioni di libri su questo amore e sesso amore e meditazione ecco perché una delle pratiche assolutamente necessarie per questo non sono le respirazioni come dicevamo prima ma anche la meditazione cioè vado a portare il mio stato di coscienza in uno stato di ascolto profondo perché nel momento in cui io sono in quello stato di ascolto profondo e anche l'altro lo è l'incontro diventerà magia pura infatti molte delle pratiche tantriche fanno fare delle cose prima dell'amplesso cioè prima di unirsi con l'altro in modo sessuale appunto e quindi io posso meditare faccio delle respirazioni vado a riattivare la mia femminilità l'altro va a riattivare la sua masculinità e nel momento in cui queste polarità si attivano e si polarizzano per incontrare l'altro e unirsi quindi creare quella magia energetica elettrica che si crea tra due corpi quando c'è questa profonda affinità questa profonda chimica questa profonda unione che non è razionale cioè non è solo perché mi piaci come sei fatto ma è anche perché c'è qualcos'altro che dietro si muove e attrae ricordiamoci che noi non siamo attratti dagli altri solamente perché c'ha un bel corpo l'attrazione più potente il magnetismo più potente è l'informazione che quella persona porta e che mi riporta a me vediamo chi dice Monica il problema è capire e già qui c'è il problema non è mai capire il problema è che non sperimentiamo abbastanza vogliamo capire come rivivere dopo la grande morte che ho vissuto nel 2020 ecco perché mi sono congelata e dissociata ok non so cosa ti riferisci Monica sulla grande morte quindi sarà immagina un'esperienza tua personale che andrebbe un attimino condivisa ma forse non qui che non è sicuramente il momento comunque se è stato un momento traumatico mettiamola così in un qualche modo si può uscire dal trauma per fortuna oggi abbiamo tanti strumenti ovviamente con una grande delicatezza con una grande pazienza e facendo degli step andiamo a scongelare di nuovo il nostro corpo quindi nel momento in cui poi Monica ti dico tu mi stai riportando questa cosa vuol dire che tanta dissociazione in realtà tu non ce l'hai a volte noi proprio per voler capire ci distacchiamo da noi stessi e dalla verità che stiamo vivendo questo succede veramente tante volte ecco perché io ultimamente sono un pochettino nemica della troppa teoria perché tutte queste etichette e abbiamo le cinque ferite le otto ferite le quattro ferite e allora tu sei così e tu sei colà allora questa ferita è così ma allora io non ce l'ho quella là sono tutte cose mentali torniamo all'esperienza del corpo e delle nostre sensazioni ed emozioni perché quelle noi ci liberano per cui smettiamo di cercare di capire troppo e proviamo a dire cosa cazzo sto sentendo cioè qual è la mia esperienza di questa cosa di questo concetto perché un concetto è un concetto astratto quando io lo riporto dentro per me vorrà dire una cosa per te vorrà dire un'altra ecco la grande differenza dello studio della medicina biologica o della psicosomatica cioè il dito destro può voler dire una cosa ma il mio percepito dipende dalla mia storia personale quindi io devo decodificare il sintomo e poi devo andare a applicarlo a me stessa che sono diversa da tutti gli altri ecco perché per fare il terapeuta e per fare il facilitatore di queste cose bisogna avere una certa conoscenza che non basta guardare il significato del sintomo ma bisogna poi applicarlo localizzarlo abitarlo in base alla persona che lo sta vivendo una volta che hai vissuto certa esperienza almeno per me sento che non riuscirei più ad avere unioni non così profonde sono d'accordo gratte che condividi questa cosa perché benvenuta nel mio club della grande selettività che poi spesso non è una selettività ripeto mentale è qualcosa che nasce da dentro nel momento in cui si attiva un fuoco profondo io so oggi che non è un fuoco che si limita solamente alla parte fisica come vi dicevo ma è un fuoco che include molto altro e quindi nel momento in cui tu provi quel tipo di unione fai fatica a scegliere qualcosa di diverso e nel momento in cui lo vivi perché è possibile che poi uno ha un'avventura con qualcuno e non arriva a quegli stati lì che per me sono veramente stati di coscienza perché in quel momento lì noi ci apriamo completamente quella morte dell'ego che ci fa scoprire chi vive al di là e scopriamo delle cose che non sapevamo prima e quindi facciamo un salto di coscienza quindi se noi utilizziamo l'energia sessuale per evolvere così come ci dice il tantra per evolvere e non per invadere perché che lato ombra di questa energia è l'invasione ecco perché noi poi abbiamo paura dell'intimità perché siamo stati invasi perché noi deriviamo da generazioni che hanno vissuto l'invasione costante e continua oppure la repressione cioè l'altra polarità opposta cioè rinnego o invado allora fare un apprezzamento a una bella donna o a un bell'uomo è piacevole ma andare a spiaccicarti addosso o a spiaccicare addosso a qualcuno le nostre perversioni se l'altro non è in apertura con noi e non è condiscendente è invasione ed è violenza ecco perché la linea è molto sottile ecco perché al di là di tutte le credenze tabù e tutto quello che ci abbiamo appiccicato sopra c'è anche una parte personale che ha ragione di esistere perché se tu vieni davanti a me mi invadi con questa energia con questo fuoco che mi entra dentro e la penetrazione non è solamente quella fisica noi penetriamo l'altro tutte le volte che entriamo nel suo campo e quindi qua prima di concludere ci tengo a dire una cosa importantissima che ragazzi miei l'abuso sessuale lo possiamo anche chiamare così non ha solamente a che fare con la penetrazione violenta dell'altro ma noi abusiamo ogni volta che entriamo senza permesso nel campo dell'altro quindi ogni volta che io ti voglio imporre la mia ragione o la mia modalità di essere voglio imporre un giudizio nel momento in cui io entro dentro di te voglio sapere delle cose ti leggo senza il tuo permesso adesso va molto nell'olismo questa cosa percepisco che stai così no non è vero e magari è anche vero ma non è il momento di dirtelo no quindi la delicatezza anche del momento tutte le volte che io ti voglio obbligare a fare una cosa che penso sia giusta per te tutte le volte che io ma io lo faccio per il tuo bene fai questa cosa usa questo prodotto invece dell'altro vai da questo dottore invece dell'altro ma perché non ti curi in questo modo sono tutte invasioni tutte invasioni quando pensiamo di sapere cosa l'altro sente senza chiederglielo quante volte ti succederà questo ma guarda quell'altro noi invadiamo il campo altrui figuriamoci quando io vengo ad appiccicarti la mia modalità di sesso a te che manco ti conosco è un abuso è un abuso costante e continuo e allora impariamo a rispettare il campo dell'altro perché nel momento in cui tu mi abusi in questo modo chiaramente io mi chiudo e il problema cos'è che lo fai tu lo fa l'altro mi guardi con quegli occhi che mi entrano dentro ma ce l'hai permesso il diritto di guardarmi con quegli occhi che mi entrano dentro hai pensato empaticamente che cosa può sentire l'altro nel momento in cui lo fai quindi impariamo a rispettare i nostri spazi personali quindi questa cosa si rieduca con noi stessi cioè io imparo a proteggere a rispettare il mio spazio personale e a non entrare nel tuo se non me lo chiedi o se non te lo chiedo io mi dai il permesso questo succede tantissimo di nuovo lo dico nell'olismo ti mando reiki o ti mando ma io non te l'ho chiesto e non è personale e non è che va bene per tutti non tutte le cose vanno bene per tutti cioè usciamo da questa condizione collettiva di pensare in modo gruppale e incominciamo a pensare in modo individuale diventiamo un pochettino adulti in questo io posso chiedere all'altro posso venire a dire che cazzo mi piace tanto lo sai bene tu no siamo amici lo stesso no cioè impariamo a stare anche col rifiuto dell'altro cioè che l'altro ci possa rifiutare possa dire che non gli piace la cosa che piace a me cioè impariamo a distinguerci che siamo diversi e in questa diversità abbiamo diritto di essere tutti quanti quindi in conclusione ci sarebbero veramente tante cose da dire ancora io trovo che la rieducazione di questa energia sia davvero un grande dono che ci possiamo fare perché nel momento in cui la blocchiamo e io vedo nell'olismo e comunque nelle persone che fanno percorsi personali che si va tanto nella mente manca tantissimo l'esperienza e 9 di 10 hanno l'energia sessuale distorta o bloccata come si fa a fare un lavoro su di sé se questa energia non è libera quindi quando io dico distorta è anche che ce l'hanno troppo cioè vado solamente in base a quello che ripeto essendo che l'energia sessuale non è solamente mieciti ma è un risveglio di un fuoco interiore ok capite che è distorta chi sta cercando chi poi lì ci sono tutta una serie di programmi e quant'altro dietro quindi tanto se la reprimo tanto se vivo solo per quella e non posso fare altro che pensare di infilzarmi chiunque capite che c'è qualcosa che non quadra spesso ci sono dei complessi di edipo ed edi elettra non risolti ve ne lancio una così poi ci sono tante altre cose quindi ci sarebbe veramente tanto da dire rieducare questa energia è fondamentale se fate dei percorsi su voi stessi di crescita personale e avete l'energia sessuale bloccata c'è qualcosa da andare a guardare prima ancora di fare delle comprensioni più profonde perché questa energia ci porta in profondità ci porta in intimità con noi stessi e senza intimità io non credo esista un lavoro personale sano e vero perché si tratta proprio di questo di essere intimi io faccio l'amore con i miei allievi in un qualche modo perché arriviamo a quei punti di intimità tale di fusione tale ricordiamoci ancora lo ridico l'energia sessuale è una modalità di fusione col momento presente con il mio corpo ecco perché si può vivere con se stessi prima di tutto anzi si dovrebbe di fusione con quello che è la vita con quello che sto facendo quindi io posso fare l'amore continuamente tutto il giorno posso vivere facendo l'amore nel piacere di esistere e riattivare continuamente quel piacere quel fuoco e imparare a farlo ci sono degli esercizi fisici il corpo è il nostro canale per fare questo il corpo è il canale per risvegliare questa energia per essere contenitore di questa energia per risvegliare le memorie che ci sono e che questa energia respirata ci permette di liberare e di fare plaf dei salti quantici nella nostra vita io ho visto donne che dopo weekend di alchimia femminile non lo dico perché li faccio io ma perché sono realmente accadute queste cose con anche mia grande sorpresa a volte come dire wow questo strumento è wow cioè è potentissimo respirando solamente abbiamo liberato dei blocchi che hanno fatto sì che il giorno dopo e i giorni dopo facessero dei cambi di vita immensi chiara questi esercizi sono tanti esercizi non è questo il momento direi per raccontarvi gli esercizi bisogna stare in un weekend in più weekend è un lavoro che richiede un po' di tempo cerchiamo di non sminuire le cose sacre perché la prima cosa per rendere dissacrante qualcosa e sminuirla ok questa è un'energia sacra i nostri corpi sono sacri che cosa vuol dire che sono importanti che hanno una complessità da conoscere che richiedono del tempo per essere conosciuti richiedono della dedicazione quindi queste conferenze chiaramente serali sono molto limitate nell'ambiente in cui siamo qui bisogna sperimentare non ci sono degli esercizi che chiudi gli occhi guarda in su guarda in giù dai un bacio a chi vuoi tu e magicamente abracadabra la mia energia sessuale ritorna in moto non è così dietro ci sono delle memorie ci sono degli abusi ci sono delle violenze ci sono delle cose dei traumi quindi è molto delicata come cosa io vi volevo fare un così una panoramica di quello che è davvero che c'è dietro a tutto questo che è tanto potente quanto terrorizzante se volete quindi io vi ringrazio per aver comunque sia seguito diciamo così questa diretta chiara grazie perché penso che sempre di più si deve parlare di queste cose in modo sano in modo un po' più libero perché lì abbiamo veramente tanti blocchi tutti quanti veramente molto delicati molto delicati ecco perché non vorrei per quanto io sia tanto dissacrante a volte ma perché rompo per costruire qualcosa che sia molto più in linea con la nostra verità con la nostra delicatezza con la nostra bellezza interiore ne abbiamo veramente tanta e quindi non sminuiamo veramente le cose che sono grandi e che anche se sono semplici questo non vuol dire che siano superficiali semplicità e superficialità sono due cose completamente diverse completamente diverse veramente la superficialità rimane sopra e sminuisce ok la semplicità include la profondità quindi sono veramente due cose molto diverse e io vi stimolo a coltivare la semplicità perché le cose semplici ci portano davvero tanto in profondità la superficialità è evitante ed è tutta un'altra cosa per concludere io vi volevo anticipare una cosa ci sarà un seminario di alchimia femminile a giugno i posti sono limitati già molti dei posti senza che io lo abbia ancora tirato fuori sono occupati sarà un seminario di tre giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica con la domenica con una super sorpresa lo metterò fuori nei prossimi giorni sarà 6-7-8 mi sembra di giugno quel weekend lavoreremo tutto su queste cose attraverso anche esercizi di danza esercizi tantrici è un seminario al femminile quindi solo per donne per ora vi anticipo che a fine agosto invece metterò un seminario di questo tipo che sarà per uomini e per donne quindi ci uniremo e renderemo sacro il guardarci anche in quell'aspetto più delicato perché magari possiamo risvegliare lo sguardo non più quello violento invadente abusante ma quello che con il respiro ci permette di accoglierci per ciò che siamo e soprattutto sintonizzarci sulla nostra vulnerabilità che ci permette di incontrarci con grande rispetto perché questo è il punto che manca grazie Elisa 7-8-9 di giugno sarà ci manca osservare le nostre debolezze le nostre perversioni accoglierle condividerle esprimerle vedere che ce le hanno anche gli altri e che non sono cose da saltarci addosso perché non è quella la soluzione in realtà la soluzione non è usarla in quel modo lì la soluzione è riportarle nel nostro cuore dargli uno spazio comprendere che cosa c'è dietro spesso dei bambini feriti che sono rimasti magari in un complesso di edipo o di elettra proiettando sul genitore ricercando il genitore del sesso opposto anche nelle proprie compagne o nelle donne o negli uomini quindi ci sono dei temi li tratteremo sarà a Bologna a giugno qui a Monte San Pietro e metterò ripeto l'evento in questi giorni manderete alla mail semi di luce blu vi ricordo sempre 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 di andare nel mio sito dove troverete gli eventi e alla mail vi manderemo tutte le informazioni poi vi ricordo anche come ultima cosa assolutamente super importante venite il 5 di aprile staremo parlando del senso biologico della malattia a Bologna una serata con Matteo Penzo dove andremo anche a trattare tutta la parte di programmazione emozionale perché dietro al senso biologico della malattia c'è il nostro percepito e c'è veramente da fare una rivoluzione nel nostro senso di come guardiamo le nostre memorie le nostre cose di come possiamo diventare semplici ma profondi quindi e non superficiali è una serata aperta a tutti ci sono ancora dei posti per cui scriveteci sempre alla mail per potervi iscrivere a questa bellissima serata in cui noi andremo a parlare di tante cose io vi ringrazio spero di vedervi in una di queste di questi eventi di queste serate c'è ancora tanto da dire ma sono certa che ne faremo esperienza un po' insieme un po' per conto vostro vi consiglio se volete un libro bellissimo di Osho Tantra Amore e Meditazione è un libro veramente stupendo dove ci sono anche degli esercizi ma tantissimi concetti su quello che abbiamo detto stasera che vi apriranno un pochettino la mente altri libri che vi posso dire l'ultima cosa che vi dico è Mantakia non so se qualcuno di voi lo conosce ha un paio di libri sul sia per l'uomo sia per la donna con degli esercizi tantrici di risveglio della nostra forza sessuale li trovo questi libri un pochettino schematici sono sincera io amo molto di più le respirazioni di alchimia femminile e di alchimia maschile perché ci sono anche per gli uomini che sono un po' diversi che hanno molto più a che fare con il libro dei segreti libro tantrico per eccellenza dove lì ci sono degli esercizi quindi vi ho dato tre spunti straordinari secondo me sono proprio la base di tutte queste cose ve lo potete leggere ecco vi consiglio di più questo di Osho il libro dei segreti perché nel libro dei segreti ci sono delle respirazioni delle meditazioni che ci permettono di coltivare anche in solitaria un pochettino questo tipo di visione questo tipo di energia poi è chiaro che quando si risvegliano traumi ed esperienze di memorie serve qualcuno che vi conduca non lo fate da soli ok grazie mille per essere stati qui e ci vediamo prestissimo ciao